Ciao a tutti, in questo video vi racconteremo l'attività di Rousseau del mese di maggio appena terminato. È stato un mese ricco di eventi digitali. Sono proseguite in una speciale Digital Edition le attività della Scuola Open Comuni di Rousseau a supporto di tutti i candidati del Movimento 5 Stelle partendo dai corsi di comunicazione per candidati alle prossime lezioni amministrative e regionali. Un percorso pensato per permettere ai partecipanti di fare esperienza della loro capacità di comunicazione e di migliorarle in un'ottica di espressione efficace dei valori dei programmi e del Movimento 5 Stelle. Mercoledì 20 maggio inoltre si è tenuto un evento storico. 224 consiglieri comunali del Movimento da tutto il Paese si sono ritrovati in un evento digitale della Scuola Rousseau per discutere di come far evolvere i consigli comunali per rendere possibile la continuità dell'azione politica e amministrativa anche in periodi di emergenza sanitaria e, in generale, di come renderli accessibili a tutti coloro che non possono essere fisicamente presenti. A maggio si è tenuta anche una votazione molto importante, quella sui progetti di Facciamo Eco Scuola, l'iniziativa attraverso la quale gli iscritti a Rousseau abilitati a voto hanno deciso a quali progetti delle scuole italiane assegnare gli oltre 3 milioni ricavati dal taglio degli stipendi dei portavoci del Movimento 5 Stelle. Ma il mese appena passato è stato anche il mese del bilancio di Rousseau 2019. È stato un anno straordinario, di profonda trasformazione con nuove funzioni e nuovi progetti, che ha registrato una crescita notevole di iscrizioni, raggiungendo oggi gli oltre 175 mila iscritti certificati. Proseguono intanto anche le certificazioni delle liste per le prossime azioni amministrative, così come il supporto per i candidati sindaco o Presidenti di Municipio. Vi ricordiamo che c'è tempo fino al 30 giugno per presentare la propria vista, accedendo alla funzione di Rousseau Open Comuni e che i nomi delle liste certificate fino ad oggi sono pubblicate sul sito ufficiale www.movimento5stelle.it. Anche l'attività di informazione continua. Grazie al blog delle stelle, attraverso il quale Rousseau vi aggiorna quotidianamente 365 giorni all'anno sulle novità principali del Movimento 5 Stelle e grazie a 5 Stelle News, il volantino di approfondimento informativo che potrete leggere in formato digitale o stampare. Vi aspettiamo su Rousseau!